Mario è scritto sotto il tuo nome. Ok, ok, perfetto. Buongiorno, presentiamo nel corso di questo incontro il rapporto sull'economia della Toscana nell'anno 2020. In apertura desidero anzitutto ringraziare le autorità presenti, gli accademici, gli esponenti delle imprese, del sistema bancario e delle professioni, le associazioni, il consiglio di reggenza della sede e tutti gli ospiti collegati al nostro webinar. La Banca d'Italia è impegnata da molto tempo, da molti anni, nello studio dell'economia dei territori e dei divari di crescita. Questo impegno è stato rafforzato ulteriormente a seguito della pandemia per documentare e per misurare gli impatti sulle economie locali della recessione che la pandemia ha generato. Una recessione che ha caratteristiche diverse dalle crisi che l'hanno preceduta anche in anni recenti. Pensiamo alla crisi finanziaria globale e ancora più recentemente alla crisi dei debiti sovrani. Questa crisi, la crisi generata della pandemia sviluppatasi a partire da fine febbraio 2020, ha interessato sia la domanda sia l'offerta, sia propagata in modo eterogeneo, fortemente eterogeneo ai comparti produttivi, ha prodotto cambiamenti rapidi, cambiamenti persistenti nei comportamenti di famiglie e di imprese. Questi sono fenomeni presenti in ognuna delle aree geografiche del nostro Paese, ma si sono manifestati con intensità diverse che riteniamo opportuno, la Banca d'Italia ritiene opportuno approfondire anche per fornire contributi utili, contributi di conoscenza utili alle politiche di sostegno. Il rapporto propone un'ampia rassegna dell'economia della Toscana. L'analisi della congiuntura è aggiornata ai primi mesi del 2021, quindi arriviamo ai mesi più recenti, è integrata anche da diversi approfondimenti strutturali, non è solo analisi della congiuntura, vi sono approfondimenti strutturali, come vedremo, in una prospettiva di più lungo termine. Questa prospettiva consente di valutare meglio il posizionamento della Toscana, la posizione della nostra regione rispetto al Paese e la sua capacità di risposta nell'attuale congiuntura. Le nostre analisi, vorrei sottolineare, si basano anche quest'anno su indagini campionarie, rilevazioni statistiche, rassegne, cui hanno partecipato imprese, hanno partecipato banche, hanno partecipato enti di ricerca e associazioni di categoria operanti in Toscana. rivolgo a tutti l'apprezzamento mio personale e l'apprezzamento della sede di Firenze per il prezioso contributo che hanno assicurato, un contributo ancora più indispensabile in questa fase straordinaria in cui è centrale disporre anche di informazioni tempestive, informazioni aggiornate. Programma dell'incontro, il programma è articolato in tre momenti. Ascolteremo dapprima l'illustrazione del rapporto regionale da parte di due ricercatrici della nostra sede della divisione analisi e ricerca economica territoriale della sede di Firenze. Silvia Delprete è la titolare, fornirà un quadro generale del rapporto, poi a seguire Elena Gennari, una ricercatrice della stessa divisione. focalizzerà l'attenzione sulla digitalizzazione dell'economia, alla quale abbiamo dedicato un intero capitolo monografico e sulle connesse infrastrutture. Seguirà nel ruolo di discussant l'intervento della professoressa Francesca Bettio, ordinario di politica economica dell'Università di Siena. La ringrazio, la ringrazio vivamente per aver aderito al nostro incontro. La professoressa è esperta di mercato del lavoro, è esperta di politiche di inclusione e senz'altro ci aiuterà con le sue riflessioni a ragionare sulle implicazioni della crisi, implicazioni della crisi in particolare sulle famiglie, ma come vedremo svolgerà anche delle considerazioni di carattere più generale sulle imprese. I lavori saranno conclusi, le conclusioni sono affidate al dottor Fabrizio Balassone, capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia, del Dipartimento Economia e Statistica. Lo ringrazio per la sua partecipazione. Le considerazioni del dottor Balassone ci consentiranno, allargeranno l'orizzonte della nostra prospettiva, in particolare meglio contestualizzando il quadro economico regionale in quello nazionale e internazionale nella difficile fase tuttora in corsa e consentiranno anche le sue considerazioni di ragionare sulle prospettive e sulle opportunità offerte dalle misure pubbliche di sostegno ed in particolare dall'avvio imminente del piano nazionale di ripresa e di resilienza. Allora, prima di passare la parola ai relatori vorrei richiamare brevemente alcuni passaggi del rapporto che saranno poi sviluppati nelle relazioni di Silvia e di Elena. Gli effetti della pandemia sull'economia regionale, come vedremo, sono stati considerevoli. Adesso lo possiamo documentare meglio rispetto alle analisi preliminari che erano state anticipate lo scorso anno. Considerevoli e lievemente peggiori della media nazionale. Questo a causa, lo documentiamo, della maggiore specializzazione della nostra regione verso i settori più colpiti dalla crisi, settori fortemente orientati all'esportazione, servizi legati al turismo, soprattutto di matrice internazionale, aspetto che caratterizza la Toscana. Il nostro indicatore dell'economia regionale fornisce stime sull'andamento del prodotto e segnala appunto un calo, come vedremo, di oltre il 9%. Ma vanno sottolineate pure le previsioni per l'anno in corso, su cui pure ci concentriamo, sono di una moderata espansione che permetterebbe di recuperare circa la metà del calo registrato nel 2020. Aggiungiamo anche che l'andamento più recente incoraggia una revisione a rialzo delle stime che erano state formulate ad inizio anno. Incoraggia anche sotto la spinta del piano di vaccinazione. L'analisi congiunturale mostra dunque che la regione è stata più esposta, lievemente più esposta all'impatto della pandemia, ma è stato un impatto, come sappiamo, violento. Ma questa maggiore esposizione si è associata anche alla non trascurabile capacità di reazione. Già quest'anno lo mostra l'andamento dell'esportazione nel primo trimestre, segno della resilienza dell'economia regionale, segno anche dell'efficacia e dell'operare delle misure di sostegno. Ecco, ma da una prospettiva di più lungo periodo su cui ci concentriamo nel rapporto, qui allora dobbiamo osservare che la pandemia ha colpito la nostra regione in una fase che era già di rallentamento, l'allentamento della ripresa ciclica che si era avviata alla fine del 2014, sempre su ritmi moderati, mai particolarmente brillanti, e che già si era esaurita nel corso del 2019, cioè anche per il limitato contributo della domanda interna, soprattutto degli investimenti. Allungando poi ulteriormente la prospettiva della nostra analisi, fino a risalire ai primi anni 2000, deve poi essere sottolineato l'indebolimento progressivo dell'economia regionale, la perdita graduale della sua vitalità, che non ha mantenuto la Toscana, non ha mantenuto, bensì ha eroso gradualmente fino quasi ad annullarlo, quel differenziale positivo che presentava circa 20 anni fa, in termini di PIL pro capite rispetto ad aree geografiche simili, italiane ed europee simili per modello di sviluppo. Ecco, questa posizione di vantaggio relativo della nostra regione si è progressivamente indebolita e si è allineata poi ai dati medi. Quali le ragioni di questo andamento non favorevole, andamento non favorevole della crescita, che ci ha reso anche poi all'arrivo della pandemia più vulnerabile che ha determinato appunto questo arretramento, ripeto, maggiore rispetto all'Italia. La ricerca di queste cause è stata ricorrente nei rapporti regionali degli ultimi anni e su di essa torniamo in questo rapporto. Riteniamo che le cause principali consistano in quei nodi, sono nodi strutturali che hanno frenato la produttività, la sua dinamica è risultata infatti in Toscana inferiore alle aree di confronto, sia nella doppia crisi 2008-2013, sia nella successiva fase di ripresa. Un andamento della produttività non soddisfacente, di peso sia dall'intensità di capitale, dalla quantità di investimenti in rapporto alla forza lavoro, in rapporto alla disponibilità di lavoro, ma è di peso anche dall'evoluzione non del tutto favorevole della produttività totale dei fattori che misura a sua volta l'allocazione delle risorse, quindi insomma in breve meno capitale e meno efficienza rispetto ad aree di confronto simili. Sono evidenze su cui convergono numerosi studi condotti negli ultimi anni dai nostri ricercatori, li trovate nei rapporti già pubblicati, ricercatori che hanno approfondito appunto la dinamica degli investimenti, hanno approfondito l'utilizzo delle tecnologie digitali, quelle di industria 4.0, hanno approfondito l'andamento della produttività. In questo rapporto i nostri ricercatori si sono soffermati ulteriormente sul tema degli investimenti e della minore propensione a investire delle imprese regionali rispetto ad aree simili. È un'analisi di lungo periodo, mostra un differenziale negativo del tasso di investimento, spiegherà Silvia le motivazioni di questa minore propensione delle imprese della Toscana, che noi indaghiamo sia in rapporto alle caratteristiche settoriali della nostra economia, quindi alla sua specializzazione, ma le indaghiamo anche con riferimento alle dimensioni di impresa. Quindi vedremo come queste due variabili, specializzazione settoriale e dimensione di impresa, spiegano questo ritardo, questa minore propensione agli investimenti. Parlavo della digitalizzazione, alla quale dedichiamo un intero capitolo monografico, lo trovate anche negli altri rapporti e quindi è un tema che si presta anche ad analisi comparate tra le regioni. Il rapporto evidenzia che il grado di digitalizzazione della regione risulta in media migliore a quello del paese, quindi in questo contesto, che è nell'insieme favorevole, emergono tuttavia ritardi, ritardi come la copertura del territorio con banda ultraveloce o l'utilizzo di tecnologie digitali innovative rivolte all'adeguamento tecnologico della manifattura, dei comparti manifatturieri che hanno avuto una minore attuazione locale, una minore implementazione locale. Ancora sono aspetti su cui la Toscana è in ritardo. Possiamo allora sostenere che sugli investimenti e sulla produttività hanno agito quei nodi strutturali dell'economia italiana che sono al centro degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma hanno inciso poi anche fattori più specifici dell'economia regionale che qui quindi hanno trovato una maggiore enfasi la capacità di innovazione e di sviluppo delle nuove tecnologie. Dunque, lo scenario Covid, lievemente più sfavorevole per la Toscana, si intreccia con alcuni ritardi strutturali. Sono ritardi non dissimili dal resto del Paese, lo vorrei sottolineare, ma in Regione hanno ulteriori specificità per le caratteristiche del sistema delle imprese, dimensioni più piccole, meno internazionalizzato, maggiore dipendenza dal credito. Occorre allora rafforzare e diffondere la capacità di reazione dell'economia tostana che è stata espressa anche in questo periodo dalla componente più dinamica e internazionalizzata che ha reagito e ricordavo già nei primi mesi di questo anno ha mostrato nella dinamica delle esportazioni tassi fra i migliori delle regioni italiane. Ma questa componente va ulteriormente rafforzata e soprattutto diffusa. Promuovere un maggiore investimento in capitale fisico e umano è stato insufficiente nel corso degli ultimi vent'anni, va recuperato questo ritardo e accelerare anche la transizione digitale che ha ricevuto una forte spinta dalla pandemia e che sarà sempre più un fattore centrale di competitività. Lo è stato nel corso della pandemia, ma lo è anche in condizioni ovviamente normali. L'investimento in tecnologia, su cui, ripeto, la Toscana mostra alcuni ritardi, consentirà anche di contenere i divari nei sistemi produttivi e i divari tra aree, tra imprese più produttive, più grandi, più integrate negli scambi internazionali, più innovative e il resto del sistema. Consentirà poi di attenuare le differenze economiche e sociali per il reddito, per l'occupazione, per il livello di istruzione che possono essere anche esse un freno molto rilevante alla ripartenza su basi più stabili e più sostenibili. Ecco, sono alcuni dei temi qualificanti del rapporto che sarà ora presentato da Silvia Delprete ed Elena Gennari. Silvia, grazie a te. Buongiorno a tutti e grazie molte per la vostra partecipazione. Ho delle slide, sto condividendo lo schermo. Ditemi quando si vedono. Il direttore ci ha già illustrato come la pandemia di Covid-19 che si è diffusa in Italia alla fine di febbraio del 2020, si è rapidamente anche trasferita all'economia regionale e le misure restrittive che sono state messe in atto per contrastare la diffusione dei contagi hanno avuto un impatto molto consistente anche sull'economia regionale. Sulla base degli indicatori congiunturali da noi elaborati, in modo particolare nel primo pannello riportiamo l'evidenza dell'indicatore trimestrale dell'economia regionale, l'ITER, che già abbiamo presentato in rapporti precedenti, la caduta dell'attività economica in regione è stata consistente, soprattutto nel secondo trimestre dell'anno cui poi è seguito soltanto un parziale recupero nei mesi estivi e di nuovo una forte caduta a partire dall'autunno a seguito della ripresa dei contagi e delle nuove misure restrittive messe in atto per contenerne la diffusione. In media 2020 il nostro indicatore stima un calo del PIL toscano di oltre il 9%, maggiore rispetto all'analogo dato stimato per il Paese e questo maggior calo è dovuto a una maggiore esposizione che la Toscana ha per struttura produttiva nei confronti della crisi e in modo particolare sappiamo che la Toscana è più specializzata nei settori manifatturieri connessi alla moda e nel terziario nelle attività turistiche, soprattutto il turismo straniero e delle città d'arte e sono entrambi i settori che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi pandemica e dalle misure restrittive messe in atto. Tuttavia ci sono segnali di miglioramento nell'anno in corso e si vede dall'indicatore Rigio Coin Toscana che approssima l'andamento delle componenti di fondo del PIL che è disponibile anche per il primo trimestre del 2021 come a seguito del forte calo del 2020 soprattutto nel secondo trimestre dell'anno nel 2021 ci sia una ripresa in atto. Gli effetti della pandemia sono stati consistenti repentini e eterogeni però a seconda dei settori produttivi e le misure di fermo produttivo adottate nella prima fase della crisi oltre che le restrizioni hanno colpito particolarmente il settore industriale che data la vocazione manifatturiera di questa regione rappresenta insomma una quota importante dell'economia in base ai dati disponibili c'è stata una caduta del valore aggiunto nell'industria e soprattutto della produzione industriale più consistente rispetto all'analogo dato del paese le nostre indagini effettuate su un campione che ha ricordato il direttore di imprese industriali e dei servizi indicano per il comparto delle imprese industriali i cali consistenti del fatturato e degli investimenti del 2020 fatturato è riportato dal pannello A l'istogramma rosso e gli investimenti sono caduti il calo è riportato nel pannello B l'istogramma blu in entrambi i casi sono cadute di oltre il 6% però le previsioni sono di un miglioramento nel 2021 con un recupero del fatturato più consistente rispetto al recupero previsto per gli investimenti che sappiamo essere una variabile molto influenzata dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia l'impatto è stato forte anche sul commercio estero sappiamo come alcuni settori siano particolarmente internazionalizzati in primo luogo quello della moda che è un settore di rilevante specializzazione regionale e l'export al valore è diminuito nel 2020 di oltre il 6% e la caduta di nuovo ritroviamo è stata molto più forte nel secondo trimestre dell'anno e ha interessato soprattutto la moda e la meccanica settori di forte specializzazione regionale la moda in questo grafico rappresentata dall'istogramma rosso e la meccanica dall'istogramma azzurro la flessione dell'export è stata addirittura più consistente se lo valutiamo a prezzi reali in termini reali ed è stata più forte la flessione dell'export a prezzi reali regionale rispetto all'analoga caduta che ha riguardato invece la domanda potenziale rivolta alla regione e il commercio mondiale tuttavia sulla base di dati e di stime che si possono fare sui dati del Fondo Monetario Internazionale ci sono prospettive di recupero nel 2021 che dovrebbero portare a una crescita della domanda potenziale rivolta alla regione che permetterebbe di recuperare il calo e già nei primi dati disponibili sul commercio regionale nel primo trimestre del 2021 che si sono resi disponibili a metà giugno questo recupero si è concretizzato perché le esportazioni in valore regionali sono cresciute nel primo trimestre dell'anno in corso di circa l'11% ovviamente queste dinamiche molto negative soprattutto dovute alle mancate vendite nella prima parte della fase della pandemia hanno avuto ripercussioni consistenti anche sulla situazione economico-finanziaria delle imprese le nostre indagini ci mostrano come la redditività delle imprese sia notevolmente peggiorata la quota di imprese che ha chiuso l'esercizio inutile nel 2020 è calata sotto il 50% quando invece negli anni precedenti si era attestata su valori molto più elevati e in questo contesto per fronteggiare lo shock di liquidità derivante dal calo delle vendite sappiamo sono state messe in campo numerose misure di sostegno alla liquidità e al credito del sistema produttivo queste misure di sostegno come ci ricordava anche il direttore sono state efficaci nel contenere gli effetti negativi derivanti del calo delle vendite e infatti la liquidità delle imprese la liquidità finanziaria delle imprese che era diciamo si era stabilizzata o si era ridotta nella prima parte del 2020 e poi risalita velocemente nella seconda parte dell'anno per raggiungere un nuovo picco alla fine del 2020 e tra le misure messe in campo per sostenere appunto la liquidità una delle più importanti è stata quella della concessione di nuovi finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in modo particolare dal fondo centrale di garanzia e il decreto liquidità dell'aprile 2020 ha ampliato l'accesso al fondo da parte delle imprese nazionali e a livello regionale questa misura è stata ulteriormente rafforzata dall'eliminazione prevista dallo stesso decreto di liquidità di una limitazione all'operatività del fondo in Toscana che poteva agire soltanto come contro garanzia dei confidi quindi il venir meno di questa riserva di legge ha permesso al fondo di poter finanziare le imprese assistendole con garanzia diretta questo si vede molto bene nei volumi perché il grafico del pannello A ci mostra come ci sia stata una forte crescita del volume di credito erogato assistito a garanzia del fondo in Toscana a partire dopo l'aprile del 2020 per un complesso di circa 10 miliardi tra l'aprile e il dicembre del 2020 che ha raggiunto quasi 100.000 imprese toscane e di conseguenza la quota dei nuovi finanziamenti erogati assistiti da garanzia delle imprese toscane è passata da una media del 3% nel 2019 a quasi il 9% nella media del 2020 in tutti i settori produttivi manifattura servizi e costruzioni ci mostra la figura del pannello B come il ricorso da parte delle imprese toscane alla garanzia pubblica del fondo centrale sia stata superiore rispetto alle imprese italiane e sia per quanto riguarda i finanziamenti di piccolo taglio sotto i 30.000 euro la cosiddetta lettera M del decreto liquidità sia per quanto riguarda gli altri prestiti di importo più elevato e come si vede da questo grafico la quota è stata particolarmente più elevata rispetto alla media nazionale soprattutto nella manifattura per il maggior ricorso da parte delle imprese del settore testile più colpite dalla crisi appunto nella filiera della moda e nei servizi è stata di nuovo più elevata grazie al maggior ricorso che hanno fatto le imprese dei servizi del commercio alberghi ristorazione connesse di nuovo alle attività turistiche e queste dinamiche di maggior ricorso al credito a parte delle imprese toscane assistite dalla garanzia pubblica ha fatto sì che crescesse la partecipazione al mercato del credito nel 2020 da parte delle imprese che come si vede da questo grafico del pannello assi era ridotta progressivamente dal 2009 in avanti durante le due crisi nella successiva fase di ripresa economica a seguito di un processo di selezione di uscita dal mercato di imprese più rischiose che abbiamo raccontato nei rapporti precedenti ecco l'ampliamento di questa misura sul territorio che ha avuto un maggior ricorso ha favorito un aumento della partecipazione al mercato del credito grazie anche all'accesso al finanziamento di imprese che prima non erano censite nell'archivio della centrale dei rischi quindi dei finanziamenti abbiamo cercato di studiare con i dati a disposizione quali possono essere le caratteristiche delle relazioni creditizie e delle imprese che possono spiegare questo maggiore propensione all'accesso al fondo da parte delle imprese toscane rispetto alla media nazionale che in termini diciamo non corretti insomma in termini medi si attesta a circa 5 punti percentuali tra la Toscana e l'Italia e abbiamo visto come siamo andati a studiare come alcune caratteristiche delle imprese come l'appartenenza ai settori la dimensione delle imprese o il loro profilo di rischiosità potessero spiegare questo visto che dai dati a disposizione abbiamo potuto apprezzare che l'accesso al fondo ha riguardato maggiormente le imprese più piccoline quelle finanziariamente più fragili e soprattutto appartenenti ai settori più colpiti dalla crisi questa analisi ci mostra che anche a parità di settore dimensione e rischio delle imprese l'accesso al fondo rimane in Toscana più elevato rispetto alla media del paese però il divario si riduce invece quando teniamo conto tra le caratteristiche della relazione creditizia il fatto che le imprese siano già finanziate presso il sistema bancario e questo si spiega anche abbastanza facilmente con il fatto che la conoscenza già dell'impresa può facilitare la valutazione del merito creditizio e può quindi facilitare l'accesso alla misura alla garanzia pubblica gli effetti della pandemia sono stati molto consistenti anche sul mercato del lavoro e di conseguenza sulle famiglie sappiamo dai dati della rilevazione sulle forze di lavoro che l'occupazione in regione è scesa meno 1,3% meno rispetto alla caduta che ha avuto però nel paese per un effetto derivante dal fatto che essendo in Toscana più presenti una maggiore incidenza delle posizioni a tempo indeterminato questo ha attenuato la caduta grazie anche alle misure messe in campo dalle autorità per attenuare gli effetti negativi della crisi sul mercato del lavoro in modo particolare il blocco dei licenziamenti tuttavia nonostante che il calo sia stato inferiore gli effetti sul mercato del lavoro sono stati fortemente asimmetrici perché l'occupazione è calata di più per la componente autonoma per quella femminile è calata maggiormente nei contratti a tempo determinato e soprattutto è calata di più nei settori connessi al turismo e i dati relativi alle attivazioni nette cioè alle nuove attivazioni di posizioni di lavoro nel settore privato non agricolo al netto delle cessazioni ci permettono di dare uno spaccato più dettagliato di questo quadro questi dati vengono dalle comunicazioni obbligatorie fornite dall'IRPET che ringraziamo molto perché ci hanno permesso ovviamente di seguire la dinamica nel mercato del lavoro anche su profili temporali infranuali e come si vede da questi due grafici la caduta delle nuove posizioni di lavoro è stata forte soprattutto nei mesi tra marzo e maggio del 2020 e ha riguardato nel grafico del pannello ha soprattutto le posizioni di lavoro dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi per il tempo libero quindi connessi alle attività turistiche e a livello insomma di disaggregazione diciamo di genere ha colpito maggiormente come già dicevamo la componente femminile dell'occupazione per cercare di tutelare il lavoro e nello stesso tempo garantire la continuità dei processi produttivi c'è stato un ampio ricorso anche in Toscana così come nel resto del paese al lavoro agile al lavoro a distanza che però in Toscana questo ricorso è stato leggermente inferiore rispetto alla media del paese perché la Toscana risulta più specializzata in settori dell'industria manifatturiela dove il lavoro a distanza si può applicare con meno facilità e nell'ambito dei servizi nei servizi a più bassa intensità di tecnologia che di nuovo hanno una minore possibilità di attuazione del lavoro agile gli effetti sull'occupazione si sono riflessi ovviamente su dinamiche molto sfavorevoli di reddito e consumi come si vede dal grafico del pannello A il reddito delle famiglie toscane è calato di quasi il 3% nel 2020 i consumi sono caduti di quasi il 12% tutto questo ovviamente per quanto il posizionamento relativo della Toscana risulti ancora migliore rispetto a quello della media del paese però questi effetti avversi sul mercato del lavoro e sul reddito e consumi hanno determinato un ampliamento delle disuguaglianze un indicatore nella disuguaglianza dei redditi è l'indice Gigini che ha riportato nella figura del pannello B dalla linea blu come si vede questo indicatore era sceso progressivamente nella fase di ripresa economica a livello regionale e invece è risalito nel 2020 non solo ma anche se vediamo nell'istogramma rosso la quota degli individui in famiglie senza reddito da lavoro che si attestava nel 2019 intorno al 5% è salita a oltre l'8% nel 2020 e quindi questo rimane insomma questo fenomeno dell'ampliamento dei divari socio-economici che sono in parte stati attenuati anche in questo caso dalle misure di sostegno all'occupazione al reddito messe in campo dal governo l'impatto c'è stato della pandemia anche sul mercato del credito abbiamo già detto come le misure di sostegno al credito e alla liquidità delle imprese o le moratorie bancarie messe in atto per poter posticipare rimborsi di famiglie e imprese abbiano inciso sul finanziamento dell'economia che nel 2020 è ritornato su un sentiero di forte crescita il credito complessivo all'economia è rappresentato dalla linea blu mentre invece la linea verde sono le famiglie e la linea rossa sono le imprese ecco il recupero del credito è stato sospinto dalla forte incremento dei prestiti alle imprese soprattutto grazie come abbiamo visto al ricorso alla garanzia pubblica del fondo e in un contesto insomma di politiche di offerta accomodanti tutto questo ha anche come dire facilitato il fatto che la qualità del credito sia rimasta sostanzialmente invariata ecco il grafico del pannello B ci mostra il tasso di deterioramento sia la velocità con cui il credito si deteriora e questo indicatore che era cresciuto molto nelle due crisi si è progressivamente ridotto nella fase di riprese economiche a differenza delle crisi precedenti nella crisi pandemica è rimasto stazionario e grazie a di nuovo le politiche di sostegno che abbiamo ricordato in particolar modo alle moratorie sia pubbliche che private le moratorie bancarie che hanno permesso alle imprese e alle famiglie di posticipare il rimborso dei prestiti e il ricorso alle moratorie così come avvenuto per le garanzie pubbliche è stato superiore in Toscana rispetto alla media del paese e ha riguardato tutti i settori produttivi manifattura costruzioni e servizi ed è stato maggiore per le piccole imprese che sappiamo essere quelle finanziariamente più fragili più vincolate ma ha riguardato anche imprese di dimensioni maggiori ovviamente il ricorso alle moratorie potrebbe sottendere diciamo nascondere in qualche modo situazioni di difficoltà economica dell'economia e quindi questo diciamo ha determinato comunque un atteggiamento più prudenziale nella valutazione dei prestiti da parte delle banche nonostante che comunque nella crisi pandemica grazie alle eccessioni di prestiti deteriorati l'incidenza dei deteriorati nei bilanci delle banche sia nuovamente scesa le banche hanno adottato criteri di valutazione prudenziale su tutti i prestiti anche quelli diciamo non in una posizione anomala cosiddetti in bonus e quindi i tassi di copertura che nella figura del pannello B sono rappresentati dalle linee la linea blu continua per il complesso dei deteriorati e quella rossa tratteggiata per le sofferenze ecco questi sono cresciuti come abbiamo visto insomma da questo quadro la crisi ha avuto un impatto molto forte sull'economia però non ci dimentichiamo che la crisi ha colpito l'economia in una fase già di forte debolezza e di crescita molto bassa come ci ha ricordato il direttore i nodi strutturali li abbiamo analizzati anche nei rapporti precedenti divari nella dettazione infrastrutturale divari anche nelle competenze quindi nel capitale umano divari nella produttività del lavoro in questo rapporto ci siamo focalizzati sul divario nella propensione all'investimento all'accumulazione di capitale da parte delle imprese toscane e su un tema collegato che è quello dell'adeguamento tecnologico del capitale utilizzato ecco come si vede da questo grafico che riporta i risultati di un'analisi comparativa tra imprese della nostra indagine regionale rispetto a imprese di regioni simili per modello produttivo e per il pro capite con cui normalmente noi ci confrontiamo che sono regioni sviluppate del nord ecco questo minore propensione a investire delle imprese toscane è solo in parte spiegata dalla sfavorevole composizione settoriale della Toscana che è appunto più specializzata su segmenti come moda e turismo che hanno mostrato in questo periodo un minor tasso di accumulazione del capitale ma è soprattutto dovuto questo divario sfavorevole alla maggiore presenza parità di settore in Toscana rispetto alle regioni di confronto di imprese di dimensioni più piccole meno internazionalizzate e la dimensione ha penalizzato anche l'adeguamento tecnologico del sistema produttivo e questo lo vediamo nel grafico del pannello B dove i tassi di adozione delle tecnologie più sviluppate come ad esempio la banda ultralarga le tecnologie 4G 5G i software gestionali oppure l'internet delle cose la robotica e i big data ecco in Toscana insomma ci sono tassi di adozione soprattutto su queste ultime più innovative molto contenuti e la distanza con il paese con l'adozione nel paese è molto ampia e quindi ci sono margini di recupero soprattutto su questi aspetti quindi per concludere nell'ultimo ventennio sappiamo che la crescita in Toscana è stata inferiore rispetto a quella di regioni simili e questa gli ha fatto perdere insomma quel vantaggio di crescita che la Toscana aveva all'inizio degli anni 2000 dell'ultimo ventennio e le cause le abbiamo un po' ricordate una minore produttività del lavoro una dotazione di capitale più bassa che abbiamo approfondito in questo rapporto che entrambi si riflettono in una minore efficiente combinazione dei fattori in questo contesto di debolezza strutturale si è innestata la crisi pandemica che ha destrutturato processi produttivi e di lavoro e quindi che cosa si può fare quali sono le azioni da intraprendere le strategie da intraprendere per ripartire e innalzare il potenziale di crescita e quindi in terra di Toscana diciamo inaugurare un'epoca di un nuovo rinascimento economico beh innanzitutto favorire la transizione digitale dell'economia che è un fattore di forte competitività dei territori in tempi normali ma che si è dimostrato un fattore di forte resilienza nella crisi pandemica per la continuità dei processi lavorativi e produttivi in secondo luogo investire in settori a maggiore intensità tecnologica favorendo ecco una ricomposizione da settori più tradizionali a settori più high tech per cercare di recuperare il gap con il paese e ultimo ma non meno importante investire in capitale umano perché l'inalzamento delle professionalità e delle competenze rappresenta una condizione necessaria per accrescere la produttività del lavoro e per questa via ridurre i divari ecco vi ringrazio per l'attenzione qua mi fermo e lascio la parola alla mia collega Elena Gennari che nel suo intervento riprenderà parte di questi spunti su cui ho lasciato grazie buongiorno a tutti nel mio intervento parlerò di infrastrutture infrastrutture che hanno un legame molto forte con la competitività di un sistema economico ora questo legame è stato oggetto di numerose analisi anche in Banca d'Italia nel 2011 vi è stato proprio un progetto sulle infrastrutture che ha dato luogo a numerosi contributi in campo della letteratura economica ora questo legame è un po' più immediato per le infrastrutture economiche come ad esempio i porti gli aeroporti le strade le autostrade le ferrovie lo è molto meno per le infrastrutture sociali almeno nella nostra come immediatamente ci viene e in realtà durante la pandemia le infrastrutture sociali sono state determinanti come appunto gli ospedali ed sono state determinanti anche altri tipi di infrastrutture come per esempio le infrastrutture di telecomunicazioni e quindi una necessità di misurare la dotazione infrastrutturale questo per intervenire laddove vi è una carenza e è una necessità è stata rammentata più volte negli interventi precedenti una necessità più che mai attuale adesso che stiamo per implementare il piano nazionale di ripresa e resilienza ed è importante farlo con indicatori appropriati qui vi ho messo due mappe tratte da un lavoro fatto con i colleghi del Dipartimento di Economia e Statistica in cui la misurazione di questa infrastruttura è basata su indici di accessibilità queste mappe riportano soltanto un paio di infrastrutture in realtà il lavoro si occupa proprio di una mappatura di tutte le principali infrastrutture del paese e gli indici di accessibilità cioè indici che ci dicono quanto è raggiungibile una determinata infrastrutture è un approccio che abbiamo utilizzato anche lo scorso anno molti di voi ricorderanno un approfondimento sulle infrastrutture della Toscana in cui abbiamo proprio calcolato un indicatore che era la differenza tra l'accessibilità in termini fisici e l'accessibilità in termini di tempi di percorrenza quest'anno siamo tornati sul tema delle infrastrutture e ci siamo occupati di infrastrutture idriche per uso civile e di infrastrutture di telecomunicazione che abbiamo detto sono state molto importanti durante il periodo della pandemia e nell'ambito di un più ampio approfondimento sulla digitalizzazione lo stato delle infrastrutture idriche ci siamo occupati delle infrastrutture idriche che per veicolare l'acqua ad usi civili ora si sta parlando di un quinto tra un quinto e un quarto dell'acqua che viene erogata nel paese in quanto una parte la parte preponderante è utilizzata a scopi agricoli e un quinto circa per scopi industriali quindi stiamo parlando dell'acqua veicolata alle famiglie alle istituzioni attraverso i normali acquedotti e possiamo dedurre lo stato di questa infrastruttura che veicola l'acqua per uso civile attraverso un indicatore che è quello delle perdite acquedottistiche appunto cioè la differenza tra l'acqua immessa e l'acqua poi di fatto erogata ora come vediamo la Toscana come vedete anche dalla tabella non solo dalla mappa la Toscana ha un livello di perdite piuttosto elevato superiore alla media del paese e questa è particolarmente marcata in alcune province come per esempio la provincia di Grosseto dove più della metà dell'acqua immessa negli acquedotti viene poi dispersa la situazione è un po' migliore per quanto riguarda chiaramente i depuratori e la depurazione quindi è la fase di depurazione e la fase di fognatura anche se occorre dire che 51 agglomerati a maggio del 2020 il ministero ancora riportava 51 agglomerati sono soggetti a procedura di infrazione per le acque reflue sono un po' più di 900 in tutta Italia principalmente concentrati nel sud del paese ora gli investimenti lo stato dell'infrastruttura idrica dipende in gran parte dagli investimenti che vengono effettuati nel corso degli anni e investimenti che vengono effettuati sia da enti locali se le gestioni sono in economia oppure più frequentemente da imprese a capitale spesso misto pubblico privato come avviene in Toscana e ora occorre dire che noi abbiamo analizzato gli investimenti degli ultimi dell'ultimo decennio un po' più piccolo il campione per disponibilità di dati e lo abbiamo fatto attraverso la base dati CERVED perché molte sono si tratta di imprese quindi abbiamo preso i bilanci delle imprese e la base dati SIOP per la parte degli enti degli enti locali abbiamo analizzato tutti gli operatori del servizio idrico quindi non soltanto i gestori del servizio idrico integrato occorre dire chiaramente che non è che lo stato delle infrastrutture oggi dipenda dagli investimenti fatti dal 2011 al 2019 chiaramente in quanto la vita utile di un'infrastruttura idrica è circa 40 anni quindi risentono delle mancanze di investimenti effettuati anche negli ultimi decenni del secolo scorso però è importante capire se il nostro livello di investimenti in Toscana in particolare è adeguato per fronteggiare questa emergenza questo livello di perdita così elevato e vediamo che in Toscana gli investimenti sono molto elevati e lo sono di più rispetto tra le regioni che investe maggiormente e lo è di più rispetto a tutte le altre macro aree l'altra infrastruttura di cui si siamo occupati nell'ambito di un approfondimento proprio sulla digitalizzazione dell'economia è l'infrastruttura di connessione a internet che ha giocato un ruolo così importante durante la pandemia e l'indice complessivo di connettività ci dice che fondamentalmente la Toscana è in linea con la media italiana tuttavia vi è un risardo per quanto concerne la banda ultraveloce superiore a 100 mbps ora questa velocità di fatto sta diventando il limite minimo per quanto riguarda la connessione molti di noi durante il lockdown hanno sperimentato quanto è importante la velocità di connessione se siamo in smart working con i figli in didattica a distanza chiaramente 100 mbps comincia a essere anche un limite piuttosto basso e infatti lo standard che si sta affermando è proprio quello da 500 a 1000 mbps e lo vediamo rappresentato su questa cartina vediamo i comuni che sono serviti da questo tipo di infrastruttura sono principalmente lungo la costa e lungo la valle dell'Arno superiore e inferiore e occorre dire che sulla base di quelle che sono state le comunicazioni fatte dai gestori di questo servizio a Infratel circa l'80% degli edifici toscali dovrebbe essere connesso con questa infrastruttura entro la fine del 2022 scusate un attimo problema tecnico ok scusate che di tanto si si ferma dunque se la connettività quindi la presenza di un'infrastruttura fisica rappresenta la premessa per una digitalizzazione dell'economia è altrettanto importante andare a guardare poi il lato della domanda cioè se questa poi infrastruttura viene di fatto utilizzata vi è domanda per questa infrastruttura e abbiamo quindi preso in considerazione vari aspetti di domanda come appunto le competenze digitali l'uso di internet da parte delle famiglie la digitalizzazione delle imprese e l'offerta di servizi digitali da parte della PA e tutto questo insieme con la connettività di cui abbiamo parlato nella slide precedente è riassunto in un indice che molti di voi conosceranno che è l'indice DESI che è calcolato dall'Unione Europea ed è calcolato per fare un raffronto tra i vari paesi europei proprio sulla digitalizzazione dell'economia nel 2020 l'Italia era al venticinquesimo posto su 28 paesi dell'Unione Europea quindi la media italiana è comunque molto molto bassa e noi abbiamo declinato questo indice DESI a livello regionale per vedere come si posizionavano le varie regioni rispetto anche alla media nazionale e vediamo come in Toscana queste il posizionamento è lievemente superiore alla media italiana e lo è principalmente per le componenti della domanda anche se se si va a guardare all'interno di queste componenti come per esempio all'interno dell'uso di internet da parte delle famiglie in realtà emergono aspetti sicuramente tecnologicamente meno avanzati ad esempio le famiglie usano internet più che altro per svago e per acquisti online piuttosto invece che per connessione al proprio per home banking per connessione al proprio conto corrente bancario nel caso della digitalizzazione delle imprese la media superiore a quella italiana è dovuta al massiccio ricorso al commercio elettronico rispetto invece per esempio all'utilizzo di altre tecnologie più avanzate come il cloud di medio alto livello per cui effettivamente le imprese toscane sono al di sotto della media italiana ora abbiamo parlato di infrastrutture quindi faccio un piccolo accenno al piano nazionale di ripresa e resilienza perché sta partendo il più grande piano di investimenti dal secondo dopo guerra qui vi ho riportato alcune informazioni ma nella relazione annuale della Banca d'Italia vi è ampio spazio su questo argomento e è importante capire che effettivamente la gran parte di questi fondi sono fondi che verranno impiegati per investimenti pubblici come vedete qui la classificazione della spesa che è presente proprio dentro il piano nazionale di ripresa e resilienza parla di quasi il 62% si tratta di investimenti materiali immateriale ricerca e sviluppo che permetterà di aumentare la dotazione di capitale umano e le infrastrutture sono presenti un po' in tutte e sei le missioni di cui si compone il piano e in particolare l'accento è molto sulla digitalizzazione quindi la digitalizzazione è un po' il piatto forte di queste investimenti infrastrutturali addirittura la missione numero 3 che si occupa al 100% di infrastrutture per mobilità sostenibile si sta parlando del 62% di 236 miliardi quindi quasi 150 miliardi di investimenti pubblici che permetteranno di chiudere gran parte il gap infrastrutturale che si è aperto rispetto agli altri paesi europei e con questa nota positiva io lascio lo spazio al prossimo relatore Mario non hai l'audio 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 direttore provi a staccare le cuffie e riattaccarle perfetto la sentiamo grazie 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 allora vorrei intanto ringraziare Silvia ed Elena per queste chiare illustrazioni che hanno toccato diversi passaggi del nostro rapporto il rapporto però è frutto del lavoro non solo di Silvia e di Elena è frutto del lavoro di tutto il team di ricerca della sede che vorrei pertanto ringraziare vorrei ringraziare insieme ai colleghi delle filiali di Arezzo e di Livorno che hanno collaborato nelle indagini e nelle rilevazioni statistiche per essere le imprese come osservavo così preziose ecco nella sua relazione Silvia ha delineato brevemente la situazione del mercato del lavoro che ha subito un impatto considerevole per quanto più limitato rispetto alla media nazionale è asimmetrico come lei ha mostrato colpendo alcune categorie prese colpendo soprattutto alcune tipologie contrattuali colpendo la componente femminile non è aumentato il tasso di disoccupazione che è rimasto stabile intorno al 7% ma questo si deve al fatto che le persone sono diminuite le persone c'è stata una flessione delle persone in cerca di impiego sono passate direttamente dall'occupazione alla inattività inoltre per la prima volta da circa 6 anni dal 2014 è tornata ad aumentare la quota di giovani non occupati né in istruzione che è tornata appunto a salire che si attesta adesso al 17% le dinamiche del mercato del lavoro hanno avuto ovviamente delle ripercussioni immediate sulla situazione delle famiglie è un aspetto che pure Silvia ha richiamato la riduzione del reddito la riduzione dei consumi e sull'aumento delle disuguaglianze per quanto questo sia stato fortemente attenuato dall'insieme delle misure di sostegno che il governo ha messo in campo ecco e questo è un primo tema che lascio alle considerazioni della professoressa Bettio esperta appunto di mercato del lavoro e di politiche di inclusione ma sollevo anche brevemente un secondo tema che è stato richiamato più volte nelle relazioni e che trovate trovate negli approfondimenti strutturali il tema delle dimensioni di impresa la prevalenza di piccole imprese in Toscana ha inciso sulla propensione all'investimento sull'adeguamento tecnologico ha inciso anche sulla transizione ambientale il governatore nelle ultime considerazioni finali ha osservato anche che il tema delle dimensioni è rilevante per gli investimenti in istruzione la domanda di lavoro qualificato è ridotta dalle piccole dimensioni e questo può generare dei circoli viziosi perché bassi salari causano modeste opportunità di impiego e sono a loro volta un disincentivo per investire in formazione in istruzione ecco è un altro tema che lascio adesso alle considerazioni della professoressa Bettio grazie allora buongiorno a tutti sono molto grata alla Banca d'Italia Toscana e agli organizzatori in particolare per avermi fatto questo invito ma semplicemente perché come tutte le persone che fanno ricerca mi piace imparare è impossibile non imparare da un rapporto Banca d'Italia anche su una regione in cui lavoro da molti anni quindi grazie per l'opportunità ora non sono sicura che sarò all'altezza di tutte le aspettative perché il tempo a mia disposizione è poco e quindi mi devo concentrare su alcune cose e le mie scelte sono sempre come dire molto idiosincratiche ora le spiego allora nel leggere il rapporto scusate passo nel frattempo alla rappresentazione a schermo intero altrimenti avete una visualizzazione distorta bene nel leggere questo rapporto la Toscana nella mia lettura esce un po' come un caso emblematico di alcuni nodi importanti dell'economia che la pandemia ha messo in luce nodi spesso strutturali ovviamente la mia lista dei nodi ripeto è un po' idiosincratica perché mi permette di leggerli da un'ottica che mi è familiare l'ottica di genere quali sono i nodi su cui vorrei soffermarmi? beh i costi occupazionali della specializzazione settoriale dell'economia locale poi non credo che avrò tempo di soffermarmi su questo che è l'ombra delle diseguaglianze sulla crescita futura nel caso ci torniamo in sede di dibattito invece tornerò sulla sottodimensione delle imprese e poi affronterò un nodo particolare che sembra lontano dalle mie competenze ma in realtà in questo caso non lo è il nodo della finanza locale in relazione alla diciamo spesa che devono affrontare alcune di quelle che sono chiamate ora infrastrutture sociali che sono stati richiamati dagli illustri relatori che mi hanno preceduto e in questo caso mi focalizzerò sulle infrastrutture sociali che noi conosciamo meglio come asili nido allora guardiamo all'impatto guardiamo alla Toscana come uno specchio dell'Italia se volete e guardiamo al lato distruttivo della pandemia perché c'è stato anche un lato construence su cui mi soffermerò brevemente in seguito allora in Toscana come è stato già più volte ricordato l'occupazione femminile è calata molto più di quella maschile anche se leggermente di meno rispetto al calo nazionale però nella Toscana sono stati accentuati diciamo è stato accentuato il calo delle donne che lavorano rispetto al totale e questo anche in confronto a livello nazionale in particolare il contributo delle donne al calo dell'occupazione totale del ben 70% in Toscana contro un 50% a livello nazionale ovviamente su tutto questo ha pesato la specializzazione settoriale perché se guardiamo agli occupati totali in tre settori commercio, ristoranti e alberghi contano per il 70% del calo dell'occupazione ovviamente sto parlando dell'anno scorso tra il 19 e il 20 quindi contano il calo degli occupati totali in commercio, ristoranti e alberghi in Toscana ha pesato per il 70% che è più di quanto abbia pesato a livello nazionale e diciamo la perdita di occupazione da parte del segmento occupazionale che più ha risentito di questa crisi ossia i lavoratori a tempo determinato di nuovo è stato più accentuato in Toscana che altrove il 20% con il 13% a livello nazionale molti di questi dati ovviamente sono leggibili proprio in relazione alla specializzazione settoriale dell'economia della Toscana e noi sappiamo bene che una specializzazione settoriale in alcuni momenti dell'economia è un vantaggio essendo una specializzazione in altri può essere uno svantaggio in questo caso gli aspetti di svantaggio hanno prevalso ora questo può essere però una spia come è stato detto da chi mi ha preceduto non soltanto di una criticità diciamo temporanea ma di aspetti strutturati che gettano delle ombre sul futuro della crescita e che occorre affrontare allora qui prima di affrontare problemi diciamo di struttura che si che si riferiscono all'impresa vorrei guardare all'impatto costruttivo della pandemia l'impatto costruttivo su cui appunto si è supermato anche Silvia e in particolare il fatto che ci ha costretto a scoprire i vantaggi del lavoro in remoto tra parentesi io lo chiamo lavoro in remoto anche se nel rapporto che dedica notevole attenzione a questo problema viene chiamato lavoro agile o lavoro smart bene io credo che sia importante dare i nomi giusti alle cose quello che è successo nella pandemia è stato molto spesso lavoro in remoto né agile né smart che hanno caratteristiche diverse e questo e su questo credo che la letteratura internazionale converga quello che mi preme è di sottolineare come questo il lavoro in remoto sia stata un'opportunità per esempio è noto che le banche sono state fra i settori che vi hanno fatto ricorso in maniera più intensivo e non solo con dei riscontri positivi hanno diminuito i costi e la produttività almeno dai riscontri che si hanno finora sembrano essere diminuita bene occorre però anche non dimenticare alcune criticità che il lavoro in remoto ha e in particolare mi riferisco alle criticità che può avere per i genitori di bambini piccoli e in particolare per le madri qui ho riportato un grafico che ho preso da i risultati di tre ondate di indagini che la fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro la cosiddetta Euro Foundation di Berlino ha fatto durante il 2020 ora non sto a commentarvi il grafico che ha troppe barre e non sono riuscita a levarne abbastanza ma il succo di quello che vedete in questi grafici e in particolare diciamo delle barre che ho cerchiato qui con una linea rossa è questo tra le donne che hanno lavorato in remoto e avevano bambini compresi tra i zero e gli undici anni una percentuale sto parlando di media europea del 30% trovava difficoltà a concentrarsi sul lavoro e trovava anche difficoltà a dare abbastanza tempo al lavoro sempre per ragioni familiari e diciamo che se confrontate le barre relativi alle donne con quelle relativi agli uomini non c'è bisogno di commentare i numeri per vedere la differenza in lunghezza cioè un problema che ha colpito soprattutto le madri quindi quando si affronta il problema del lavoro in remoto non dimentichiamo diciamo gli effetti negativi che può avere selettivamente su un certo tipo di famiglie e le famiglie sono quelle che ci stanno più a cuore perché abbiamo un problema di occupazione femminile in questo paese ma anche di denatalità bene ora vengo a un'altra aspetto del rapporto che mi ha molto sollecitato diciamo e che è quello della sottodimensione delle imprese è un rilievo che è fatto trasversalmente al rapporto che come abbiamo sentito dalle relazioni che mi hanno precedute ha dei riflessi importanti sul tipo di digitalizzazione di innovazione e in generale di produttività dell'economia regionale ora qual è il mio punto il mio punto è che dentro alle imprese piccole c'è una maggioranza relativa naturalmente di imprenditoria femminile l'imprenditoria femminile ha finora incarnato anzi direi esacerbato i problemi legati alla sottodimensione e infatti non a caso poi ci sono problemi di innovazione digitalizzazione produttività eccetera bene questo è per l'ennesimo lamento sul fatto che le donne sono ancora più penalizzate spero di no spero di avere una prospettiva più positiva su questo però prima di arrivarci vorrei semplicemente ricordare che anche a causa di questo la Toscana è stata particolarmente penalizzata nella diciamo crescita vorrei dire più che altro nel calo relativo delle imprese durante la pandemia e se vedete dal grafico che sta qui alla mia sinistra queste sono le variazioni percentuali delle iscrizioni delle imprese a registro sempre nel periodo 2019 2020 in questo caso rilevate nel secondo trimestre dello scorso anno vedete che la Toscana sta un po' verso la fine della classifica a testimonianza del fatto che le variazioni in negativo quindi il fatto che ci sono state minori iscrizioni una diminuzione di iscrizione delle imprese bene la Toscana in qualche maniera ha registrato una performance da questo punto di vista inferiore alla media nazionale tra le regioni che sono state più penalizzate però dentro questa penalizzazione regionale maggiore ovviamente sono state più penalizzate le imprese femminili quindi guardare a uno delle componenti critiche di tutte le imprese piccole nella Toscana forse ha un significato ora però quale significato è in particolare in relazione a una discussione sul rapporto Banca d'Italia beh perché diciamo che l'inclusione finanziaria vede un evergreen come tema che è quello appunto della imprenditoria femminile la Banca d'Italia tempo fa si occupò del problema e concluse quello che è molto noto a livello internazionale ovvero che le imprese femminili hanno un accesso più diciamo difficile al credito o hanno come dire un accesso più difficile o hanno un accesso più difficile a crediti diciamo più convenienti ok problema noto a livello internazionale perché rivedere questo problema e in particolare con riferimento alla Toscana e con riferimento a questo periodo perché se guardiamo alla letteratura internazionale sull'imprenditoria questa dice che forse l'approccio che finora ha visto soltanto la questione dell'inclusione finanziaria è carente ovvero non bastano i soldi per far crescere di più l'imprenditoria femminile e farla crescere di dimensione c'è bisogno di un cambio di paradigma nella politica un cambio di paradigma che in qualche modo attivi misure che accompagnino la crescita di queste imprese ora queste misure partono da lontano partono a monte per esempio per il fatto di incrementare la presenza delle donne in quelle discipline che sono note come discipline STEM che forniscono diciamo competenze nelle scienze nella tecnologia nella digitalizzazione nella comunicazione nell'economia verde e così via tutti i settori che sono destinati a crescere e rispetto ai quali in generale le donne che lavorano sono sottorappresentate quindi bisogna partire dalla scuola e come dire da incentivare se volete una una maggiore passione direi e sicuramente una maggiore presenza delle donne per la scienza la comunicazione e tutto quello che muove l'innovazione ma poi bisogna avere anche altri interventi tipo fornire non solo accesso al credito ma servizi di consulenza mentoring accesso a network eccetera eccetera chi può farlo e perché ne parlo in questa sede perché forse delle istituzioni finanziarie agile l'ho messo tra virgolette potrebbero avere un ruolo di questo tipo forse non possono farlo le banche perché le banche hanno sopra di sé una montare di regole abbastanza rigide e che hanno il loro senso ovviamente che forse impediscono di muoversi più agevolmente in questo settore quali possono essere queste istituzioni ho qualcosa in mente tipo le finanziarie regionali però alzo le mani non me ne sono mai occupato direttamente quindi non sono sicura che ho detto le cose giuste penso sia fattibile allora qual è il mio auspicio per il prossimo rapporto della Banca d'Italia il mio auspicio è che forse un approfondimento su questo tema è particolarmente come dire ha una buona tempistica sia per l'economia regionale che in generale per l'importanza del problema e poi se mi resta un minimo di tempo affronto l'ultimo problema che sembra riguardare solo la finanza ma in realtà riguarda la finanza attraverso quella che chiamo una delle infrastrutture chiave del nostro paese che a mio avviso rappresentano le strutture educative per l'infanzia chiamiamoli asili nido per semplicità allora partiamo da un dato come dice il rapporto i comuni toscani hanno particolarmente sofferto in termini di entrate in parte per via del turismo ok allora uno può dire d'accordo il solito problema specializzazione regionale problema di breve e lungo poi si rimette a posto può darsi però il lungo per il turismo è ancora una fonte di incertezza primo secondo ho preso spunto da questo importante riscontro per andare diciamo a portare alla luce un problema strutturale per alcune poste di spesa che i comuni si trovano ad affrontare che naturalmente li mette in difficoltà nella misura in cui le loro finanze sono più a rischio e non soltanto allora guardiamo per esempio agli asili nido per l'appunto questi sono ancora definiti come servizi a domanda individuale ciò significa che le spese sono ripartiti tra comuni e famiglie questo è il dato della finanza locale poi c'è il dato del piano nazionale di resilienza e resistenza che ha investito molto per l'espansione degli asili nido certo ha investito molto ma il piano costruisce le infrastrutture non dà la spesa corrente quando siamo alla spesa corrente torniamo al problema dei comuni e al problema che bisogna in qualche modo ristrutturare il rapporto tra finanza locale e finanza centrale forse una posta come gli asili nido che sono importantissimi per quel nodo dell'economia italiana che ripeto è bassa natalità bassa occupazione delle donne beh forse è il caso in questi particolari casi di rivedere il rapporto tra finanza locale e finanza centrale mi fermerei qui spero di non avere troppo sforato e casomai lascio a vostre domande di approfondire qualcosa che non fosse stato chiaro o su cui avete voglia di approfondire grazie eccomi eccomi allora grazie grazie professoressa grazie per il suo intervento grazie per le preziose riflessioni anche per le proposte per i suggerimenti che ci riserviamo ovviamente di valutare le valuteremo senz'altro con attenzione allora è stata fatta un'ampia rassegna dell'economia ragionale ragionando sulle conseguenze economiche della pandemia ragionando sulle prospettive ragionando poi sui nodi strutturali da sciogliere anche alla luce soprattutto alla luce delle specificità dell'economia della Toscana e ora è opportuno inquadrare l'andamento della regione Toscana nel più ampio contesto nazionale questo è utile senz'altro per una più compiuta interpretazione sul piano dell'analisi ma è utile anche per il contributo che potrà derivare alla crescita delle misure di politica economica in particolare del piano nazionale di riprese e di resilienza prego allora il dottor Fabrizio Balassone il capo del servizio struttura economica del nostro dipartimento centrale di intervenire grazie Fabrizio buongiorno grazie Mario grazie a tutti per tutti voi di Firenze per l'invito e grazie alla professoressa Abettio per gli interessanti spunti che ha fornito nella sua discussione se riuscirò se avrò il tempo cercherò di fare riferimento anche alle cose ad alcune delle cose che ha detto a tutte non riuscirò lo so già prima di cominciare allora ho anch'io qualche slide quindi condivido il mio schermo che dovrebbe ora esservi essere visibile lo vedete ok allora certamente la crisi la pandemia di covid 19 non è una questione regionale purtroppo è una questione mondiale ha avuto effetti estremamente gravi si stima che siano quasi 180 milioni le persone contagiate nel mondo e quasi 4 milioni le vittime di questa pandemia sul piano economico il pil mondiale è diminuito di oltre il 3% e questa è la caduta più forte dalla seconda guerra mondiale il commercio il commercio è sceso anche di più in percentuale anche in relazione alle restrizioni che sono state imposte alle persone alle merci per contenere il contagio il calo è stato di quasi il 9% dal grafico di sinistra vedete che vi hanno contribuito sostanzialmente tutte le principali economie quindi è davvero uno shock che ha colpito in maniera estesa l'economia globale l'area dell'euro ha registrato anch'essa il più ampio calo dell'attività dalla sua istituzione quasi 7 punti percentuali 6,6 per la precisione e in Italia la contrazione è stata ancora più forte il 9% e lo vedete nel grafico di destra dove si mostra anche che il calo ha riguardato tutte le aree del paese anche se il nord è stato colpito in maniera più forte soprattutto per effetto della prima ondata di contagi fortunatamente le politiche hanno reagito prontamente e con forza alla crisi lo hanno fatto le politiche monetarie a cui è dedicata questa coppia di grafici che da un lato dove c'erano margini hanno utilizzato lo strumento tradizionale dei tassi di interesse di riferimento e vedete dove c'era spazio sono stati manovrati con decisione e con ampiezza proprio nei primi mesi della crisi all'inizio dell'anno dall'altro hanno fatto ampio ricorso allo strumento degli acquisti di titoli sui mercati vedete nel grafico di destra questo è uno strumento utilizzato un po' da tutte le principali banche centrali per la BCE le attività nel suo bilancio sono arrivate quasi al 70% del PIL ed erano di poco superiori al 40% all'inizio dello scorso anno l'effetto di questa mobilitazione diciamo così è stato forte e immediato sui mercati i tassi di interesse e i differenziali di rendimento sui titoli di Stato sono scesi rapidamente e in realtà le condizioni finanziarie sono migliorate molto presto anche sugli altri mercati su quelli azionari e su quelli del debito privato ma come dicevo non è solo politica monetaria è stata anche politica di bilancio le politiche di bilancio hanno sostenuto i redditi delle famiglie e delle imprese in questo frangente così complesso soprattutto nei paesi avanzati naturalmente alle volte noi dimentichiamo che le disponibilità finanziarie di paesi come quelli europei come gli Stati Uniti sono ben diverse da quelle dei paesi emergenti o in via di sviluppo per non parlare di quelli in via di sviluppo nell'Unione Europea comunque c'è stata una reazione molto rapida molto diversa da quella che c'era stata alle precedenti due recessioni tra il 2008 e il 2013 innanzitutto è stata attivata la clausola di salvaguardia del patto di stabilità e crescita che ha consentito ai governi di ampliare i disavanzi di bilancio è stata data maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi di coesione è stato adottato un quadro temporaneo di normativa sugli aiuti di Stato tutto questo insomma ha consentito a tutti i paesi dell'area di adottare politiche di bilancio espansive cosa ampiamente espansive cosa che non era successa nella stessa misura in occasioni precedenti a questo che vedete illustrato quantitativamente nel grafico in particolare per l'Italia si nota un aumento forte del disavanzo a questo si aggiunge l'accordo del luglio scorso sul programma Next Generation New che credo di non esagerare se dico che rappresenta un'innovazione di portata storica perché prevede per la prima volta l'emissione di debito europeo comune per finanziare piani nazionali di investimento e di riforma sebbene peraltro concordati nell'ambito di una strategia comune che fa delle transizioni della doppia transizione verde digitale il suo punto di riferimento e queste iniziative prese nei singoli paesi a livello europeo hanno avuto effetti rilevantissimi le misure introdotte nel nostro paese ad esempio hanno sostenuto sia le condizioni finanziarie delle imprese sia il reddito delle famiglie se guardiamo le imprese vediamo che la quota delle società di capitali in fabbisogno di liquidità è scesa in realtà al di sotto dei livelli che avrebbe raggiunto anche in assenza della crisi noi stimiamo che la quota di imprese in fabbisogno di liquidità sarebbe stata del 19% in assenza delle misure con le misure di sostegno varate con i vari decreti emergenziali nel corso del 2020 si scende a una quota intorno al 14% si scende ancora di più molto di più se si considerano anche le misure che hanno facilitato l'accesso al credito misure che come abbiamo sentito nelle relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto hanno avuto un peso notevole anche in Toscana ora la quota di queste imprese cioè delle imprese delle società di capitali che era in fabbisogno di liquidità nel 2019 era pari al 15% quindi le misure adottate hanno avuto un impatto significativo la riduzione del reddito disponibile causata dall'emergenza sanitaria è stata ampia ed eterogenea tra le famiglie ma grazie agli interventi di sostegno questa flessione è stata molto inferiore a quella del PIL lo vedete nel grafico di sinistra il PIL come dicevamo in Italia è sceso del 9% il reddito disponibile è di poco più del 2% e le misure hanno anche contribuito a contrastare l'aumento della disuguaglianza nella distribuzione del reddito lo vedete nel pannello di destra certo la disuguaglianza è aumentata come abbiamo sentito in particolare con riferimento alla Toscana ma senza queste misure le perdite di reddito sarebbero state molto più ampie e lo sarebbero state soprattutto per i quinti di reddito più bassi della distribuzione nel corso dell'anno le cose sono andate in alcuni momenti meglio del previsto nel corso dello scorso anno in particolare nel terzo trimestre il recupero è stato molto più accentuato e rapido di quanto ci si attendesse soprattutto nell'industria lo vedete qui dall'andamento dell'indicatore settimanale dell'attività economica a cosa è dovuto questa capacità di ripresa che ha dimostrato l'economia italiana a molti fattori ma in particolare credo che vi abbia contribuito il fatto che sia il sistema produttivo sia quello bancario sono arrivati alla vigilia di questa crisi in attesa in condizioni molto migliori di quelle che prevalevano prima della doppia crisi finanziaria e del debito sovrano da allora c'è stato un processo che pur con insufficienze e ritardi ha portato a selezionare le imprese più efficienti e a riallocare le risorse in maniera da rafforzare la struttura finanziaria del comparto è un processo che abbiamo sentito è stato forte anche in Toscana abbiamo sentito che nel decennio precedente la pandemia tra le imprese della regione si era affermato un trend di recupero della redditività e di quindi oggi l'Italia può contare su un segmento in crescita di imprese dinamiche e innovative a cui si deve il recupero di competitività dell'ultimo decennio prima della crisi e un contributo importante al ritorno in attivo dopo 30 anni della nostra posizione netta sull'estero che vedete qui nel grafico di sinistra per quanto riguarda le banche negli ultimi 5 anni il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività ponderate per il rischio è salito di oltre 3 punti al 15,5% e al tempo stesso l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti al netto delle rettifiche di valore è scesa al 2,2% 7,5 punti sotto il picco del 2015 in questo grafico vedete che per i maggiori gruppi quelli classificati come significativi ai fini della vigilanza unica la distanza dalla media degli altri paesi degli intermediari italiani per patrimonializzazione per qualità dei prestiti è sostanzialmente annullata queste considerazioni i segnali positivi che sono emersi negli ultimi mesi e l'ingente stimolo fornito dalle politiche monetarie e di bilancio portano a un cauto ottimismo per quanto riguarda le prospettive a breve medio termine della nostra economia e abbiamo sentito anche per la Toscana insomma c'è ragione di rivedere le previsioni in alto da poco noi abbiamo presentato i risultati dell'esercizio di previsione che abbiamo condotto nell'ambito dell'eurosistema e in questo esercizio sotto l'ipotesi che prosegua il miglioramento delle condizioni sanitarie nazionali e globali e che quindi possano essere rimosse la maggior parte delle restrizioni alla mobilità e all'attività che hanno colpito l'economia e le persone in questi mesi trascorsi la crescita dell'economia italiana si rafforzerebbe con decisione nella seconda metà di quest'anno e si collocherebbe ampiamente al di sopra del 4% nel complesso del 2021 proseguendo poi su ritmi elevati anche nel bienio successivo ora se guardate la prima riga di questa tabella nella parte centrale le cifre implicano che i livelli di attività prevalenti prima della pandemia sarebbero recuperati nel corso del prossimo anno e questo è qualcosa è un'indicazione che assolutamente era assente nell'esercizio previsivo precedente che vedete riassunto nella parte destra della tabella vi segnalo peraltro che questi numeri non tengono conto dei dati rilasciati il primo giugno dall'ISTAT sull'andamento effettivo del primo trimestre che sono stati rivisti a rialzo ecco se tenessimo conto anche di quei dati la crescita indicata per il 2021 sarebbe più alta di oltre mezzo punto percentuale rispetto a quanto indicato in questa tabella quindi prospettive ancora migliori ora questo questo profilo di crescita è però fortemente dipendente dall'efficacia delle misure di sostegno e di rilancio finanziate con il bilancio nazionale e con i fondi europei tra cui ovviamente quelle delineate nel piano nazionale di ripresa e resilienza il complesso di queste misure infatti innalza il livello del PIL nel periodo di previsione di quasi 4 punti percentuali di cui la metà è riferibile al PNRR su un orizzonte più lungo peraltro gli interventi del PNRR potrebbero avere effetti anche più forti se gli investimenti pubblici accrescessero la redditività del capitale privato stimolandole l'accumulazione in questo caso infatti pensiamo che l'impatto sul prodotto potrebbe ampliarsi fino a raggiungere il 3,5% nel 2026 e ancora di più in un orizzonte più lungo le misure di riforma che accompagnano gli investimenti del PNRR potrebbero sollevare il prodotto potenziale del paese noi valutiamo che su un orizzonte decennale le misure di investimento e riforma insieme contenute nel PNRR possano far crescere il livello del PIL di un ammontare compreso tra i 3 e i 6 punti percentuali nella relazione annuale trovate un riquadro che spiega la metodologia con cui si arriva a queste conclusioni che si basa su un lavoro di alcuni ricercatori del Dipartimento pubblicato alcuni mesi fa ora ci tengo però a sottolineare che per ottenere questi risultati non basterà spendere le risorse che sono messe a disposizione nell'ambito del PNRR o nel bilancio pubblico bisogna e questa valutazione degli effetti delle riforme lo suggerisce bisogna che gli interventi siano in grado di modificare un po' la struttura della nostra economia consentendoci di superare le debolezze che da anni ormai la caratterizzano nella discussione che ha preceduto questo mio intervento conclusivo è emerso con evidenza che si tratta di debolezze che con intensità diversa da quella media nazionale riguardano anche la Toscana io per ragioni di brevità adesso ne elencherò solo alcune ma credo che siano più che sufficienti a dare il senso della complessità della sfida che ci attende e comincerei facendo riferimento alla necessità di creare le condizioni per una maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei giovani qui abbiamo valori di partecipazione che sono ancora rispettivamente di 13 e di 14 punti percentuali al di sotto della media europea la professoressa Bettì ho appuntato i riflettori sulla questione di genere nel mercato del lavoro e il direttore Venturi invece aveva appena accennato al tema dei giovani ecco a quest'ultimo riguardo io segnalo che in Italia sono oltre 3 milioni i giovani tra i 15 e i 34 anni che non sono occupati né impegnati in un percorso di istruzione o di formazione è una quota prossima a un quarto del totale ed è la quota più elevata in tutta l'Unione Europea questi sono dati che sono intollerabili di per sé questi dei giovani e quelli relativi alla partecipazione femminile ma assumono una gravità ancora maggiore se li guardiamo contro luce rispetto alle tendenze demografiche dei prossimi decenni e al calo della popolazione in età da lavoro che ci attende che è stimato in circa 5 milioni e mezzo di persone per la classe di età compresa tra i 15 e i 64 anni nei prossimi vent'anni quindi un calo di proporzioni veramente ragguardevole in secondo luogo la produttività la crisi pandemica ha colpito l'Italia dopo un lunghissimo periodo di ristagno della produttività del lavoro il grafico di sinistra credo dica tutto quello che c'è da dire al riguardo da noi il tasso di aumento medio è stato negli ultimi 20 anni dello 0,3% contro lo 0,7% in Spagna e l'1,2% in Francia e in Germania e il tema della produttività si porta dietro un altro tema altrettanto importante che è un altro tasto scusate dolente per la nostra economia che è quello della capacità innovativa il grafico di destra di questa diapositiva mette a confronto la spesa per ricerca e sviluppo italiana e di altri paesi avanzati e mostra che la nostra è molto più bassa e in particolare è bassa quella privata si è parlato anche della della questione della capacità di investire e di innovare di un sistema di imprese basato soprattutto su imprese di piccola dimensione non ho il tempo per approfondire questo tema ma di nuovo nella relazione troverete ampi riferimenti nella relazione annuale a questa questione bisognerà poi rafforzare l'istruzione è la formazione interna alle aziende quindi l'istruzione prima del mercato del lavoro e poi la formazione durante il lavoro perché il nostro è un paese in cui le conoscenze e le competenze sono ancora basse soprattutto nell'uso delle nuove tecnologie la quota della popolazione con competenze digitali in Italia superiori a quelle di base è inferiore circa 10 punti alla media europea e la cosa che preoccupa di più è che il divario è più ampio per le classi di età più giovani potrebbe immaginare che si tratti in realtà di un divario attribuibile alla struttura demografica del nostro paese dove prevalgono le classi di età più anziane più mature non è così infine faccio un accenno veramente alla necessità di migliorare la qualità delle infrastrutture ne ha parlato Elena Gennari e dei servizi pubblici accrescendo l'offerta di quelli digitali che anche qui è più bassa rispetto alla media europea ed è concentrata soprattutto in alcune aree del paese sono come dicevo tutti questi problemi riguardano la Toscana come le altre aree del paese abbiamo sentito già della digitalizzazione quindi non ci torno dico soltanto aggiungo che anche per quanto riguarda la qualità del sistema educativo e dei servizi pubblici la Toscana che pure è sopra la media nazionale sconta comunque uno svantaggio rispetto alle aree più avanzate del paese e rispetto al resto d'Europa quindi anche nelle regioni dove siamo in posizione migliore dobbiamo fare qualcosa di più concludo con un riferimento al problema annoso del nostro paese che è quello del debito pubblico quest'anno il debito raggiungerà si collocherà in prossimità del 160% del PIL che è un livello che l'Italia aveva raggiunto soltanto all'uscita dal primo conflitto mondiale ed è un livello di quasi 60 punti superiore a quello medioeuropeo quello medio dell'area dell'euro un debito alto è un elemento di fragilità intrinseca dell'economia espone a shock finanziari ma soprattutto crea una sottostante clima di incertezza che è nemico dell'investimento e quindi della crescita la via per ridurre il peso del debito è quella della crescita e anche per questo le risorse europee dovranno essere utilizzate in maniera da dare frutti duraturi direi che è un'occasione che non ci deve sfuggire anche per il contesto in cui si presenta attualmente il debito pubblico italiano ha una vita media residua superiore a sette anni il che vuol dire che il costo di finanziamento del debito beneficerà dei tassi particolarmente bassi registrati in questi anni ancora a lungo in queste condizioni anche un ritorno a tassi di crescita dell'ordine di quelli registrati prima della crisi finanziaria globale sarebbe sufficiente a mantenere un differenziale positivo tra tasso di crescita dell'economia e costo medio del debito e quindi ci darebbe una spinta tendenziale alla riduzione del rapporto tra debito e PIL in queste condizioni sarebbe sufficiente tornare a un avanzo primario dell'ordine dell'1% di poco più dell'1% del PIL dopo il 2024 per ridurre il rapporto tra debito e PIL ai livelli prepandemici nell'arco di 10 anni e come ho cercato di argomentare commentando gli effetti del PNRR sulla nostra economia in realtà noi possiamo se usiamo bene le risorse crescere anche di più e quindi accelerare ulteriormente questo processo è un compito non banale come ho anche cercato di suggerire facendo un elenco peraltro parziale degli ostacoli però è un compito che può essere affrontato con un certo grado di ottimismo se ci sarà la necessaria coesione e la necessaria volontà grazie 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 a te Fabrizio per la ricchezza del tuo contributo pur nei limiti di tempo che ti abbiamo assegnato hai evidenziato una serie di temi centrali per lo sviluppo della nostra regione per la ripartenza su basi più stabili e più sostenibili la partecipazione al mercato del lavoro di donne giovani la produttività delle imprese che poi si collega alla capacità di innovare e di investire il tema delle infrastrutture allora ci avviamo davvero alle conclusioni però c'è spazio ancora per un breve intervento della professoressa Franca Lacevic presidente del consiglio di reggenza della sede e consigliere superiore della banca grazie Franca grazie a Mario e grazie soprattutto a Silvia del Prete Elena Gennari oltre che alla professoressa Bettio e a Fabrizio Balassone perché davvero è stata una mattinata ricca di spunti siccome il tempo è tirano e siamo in chiusura perché questi interventi online devono essere brevi se no poi stancano io vorrei sottolineare un solo aspetto tra i moltissimi stimoli che mi sono arrivati e vorrei incrociare due dati che ovviamente sono presenti nella relazione fatta da Silvia e da Elena nel testo nella relazione annuale della Banca d'Italia ripresi da Balassone poco fa il disavanzo pubblico avevamo visto quella slide impressionante in cui la crescita del disavanzo pubblico è enorme per l'Italia ed è molto più che proporzionale rispetto all'area euro e l'altro dato che appunto è il 160% del PIL di debito pubblico questi due dati impressionanti portati da Balassone presenti nella relazione annuale che ci mostrano che noi avremo comunque PNRR nonostante un problema enorme nei prossimi anni di sostenibilità della nostra economia se incrociamo questo dato con quello che peraltro Balassone stesso ha citato ma che Francesca Bettia ha messo bene in evidenza col calo della natalità noi sappiamo che usiamo dire che carichiamo ogni bambino che nasce del famoso zainetto di debito pubblico questo è ormai un modo di dire che è consuetudinario ma il fatto è che carichiamo sempre meno bambini di uno zainetto sempre più pesante di debito pubblico allora qui davvero io vorrei che risottolineassimo come Francesca peraltro ha fatto benissimo ma il fatto che porsi il problema dell'occupazione delle donne non è un problema che riguarda le donne un po' di consapevolezza ormai è generalizzata ma volevo sottolinearvi questo Francesca ci ha fatto vedere con un solo esempio quello degli asili nido come non basta pensare ci metto soldi e faccio gli asili poi c'è il problema di mantenere chi paga le rette come vengono pagate sappiamo che le disuguaglianze ci hanno fatto vedere Elena e Silvia sono molto cresciute nel paese quindi ci sono molte più persone con difficoltà economiche e via dicendo peraltro sappiamo perché ormai la ricerca lo ha acclarato in modo evidente che i paesi con tassi di natalità superiori sono anche quelli con maggiore occupazione femminile non entro nel merito perché ovviamente non c'è tempo allora noi abbiamo davvero un problema di costruire politiche perché la consapevolezza dell'occupazione femminile da far crescere c'è non trovo e concordo con Bettio che da questo nasca una come dire conseguente costruzione di politiche efficaci sono politiche che si marcano sono marcate come di genere ma poi di fatto forse non sono del tutto efficaci allora questo è un aspetto strategico che va sottolineato e noi insomma la Banca d'Italia lo fa devo dire molto spesso nelle sue ricerche nei suoi interventi lo fanno tutti gli esponenti della Banca d'Italia però anche noi penso alla nostra sede fiorentina e alla volontà che avremo e che cerchiamo di esercitare soprattutto il direttore e tutto il suo staff ma nei confronti anche delle politiche locali e regionali perché qui c'è anche un problema di strategie loro era solo questo che volevo sottolineare mettere insieme due elementi il debito pubblico il disavanzo e il tasso di natalità e l'occupazione femminile che sono veramente da sottolineare sempre e non è un interesse di parte è un interesse collettivo grazie grazie alla professoressa Lacevic ringrazio nuovamente tutti i relatori ringrazio tutti coloro che hanno assistito hanno partecipato a questo evento potete consultare il rapporto sul sito internet della Banca da oggi è pubblicato potete anche inviarci delle domande all'indirizzo di posta elettronica della divisione Aret della sede di Firenze vi assicuriamo che risponderemo nei prossimi giorni a tutte le osservazioni e a tutte le domande che ci saranno formulate allora davvero grazie ancora arrivederci a tutti i nostri domande a tutti i nostri domande